Si aprì dinanzi ai suoi occhi uno spazio coperto di erba verde e bassa, diviso per metà da un tronco di quercia abbattuto molti anni prima da un fulmine. La chioma affondava i suoi rami nel fiume di, aggrovigliandosi alle rocce dell'argine come una scultura. E su una di quelle rocce una ragazza, non una donna qualunque si corresse, la mia futura splendida moglie. Alex avrebbe fatto di tutto, perché soltanto con lei la sua vita sarebbe stata degna di essere vissuta. Te lo giuro, ritornerò. Solo la morte potrà impedirmi di tornare da te. Grazie a tutti.